Luigi Di Maio ad indicare la strategia autunnale del Movimento 5 Stelle e i toni sono molto diversi da quelli del tavolo di trattativa sulla legge elettorale. Tra i mille giorni e le varie scadenze Renzi ha creato solo dei grandi distrattori di massa, dice il vicepresidente della Camera. Sentiamolo. Dire agli italiani che stanno per pagare tra poche settimane l'IVA, l'IRAP, l'IRPEF, la Tasi, l'IMU, dirgli che servono mille giorni per risolvere i loro problemi per noi è una presa in giro. Per noi bastano mille ore, 40 giorni. Entro la metà di ottobre possiamo abolire l'IRAP per le imprese, sbloccare i posti di lavoro, aumentare le pensioni tagliando quelle d'oro e soprattutto istituire un reddito di cittadinanza. Tutto questo creerebbe nuovi posti di lavoro per i giovani e salverebbe i cinquantenni che hanno perso il loro posto di lavoro e non riusciamo a ricollocarli nel mondo delle imprese. No, agli immigrati portano la tubercolosi. Questo è l'allarme shock del leader del Movimento 5 Stelle, Beppe Grillo, che sul suo blog afferma che con l'immigrazione tornano le malattie infettive come la TBC e parla già di 40 poliziotti contagiati. Secondo la denuncia di Grillo, alla polizia non vengono forniti neppure gli strumenti minimi di profilassi, ma il beminale sventisce e per la polizia i dati sono falsi. I triti e ritriti confronti degli italiani come popolo di migranti, che deve comprendere, capire, giustificare chiunque entra in Italia, prosegue Grillo, sono delle amenità tirate in ballo dai radical chic e dalla sinistra.